Com'era il peragosto vent'anni fa? Il peragosto vent'anni fa? Se lo chiedono di nuovo si sente ancora male, no? Finalmente ora si è calmato. Io ero piccino, era veramente ingestibile. Fra riste, lanci di gavettoni, lanci di sassi, secchiate, di tutto, bagni contro bagni. Noi che tra papà calmo andavamo ai bagni peane, poi ai bagni fiume, poi venivano quelli bagni fiume al cancello. Un anno lo voleva buttare giù. Una rissa enorme perché un ragazzo tirò una secchiata a un signore che c'aveva il cellulare. Ho visto di tutto, polizia, carabinieri. Mi babbo addirittura, no, lo chiamò anche una ditta di sicurezza, che c'è l'effetto contrario perché si bicchiarono anche loro. Però, no, sono incredibili. Oggi invece com'è cambiato? Oggi è cambiato perché è tutto più soft. Magari i ragazzi, prima addirittura, noi si andavamo anche a letto un po' prima per caricarsi per la mattina di ferragosto. Ora fanno più tardi. È passato un po' a quella delle secchiate. Infatti quest'anno abbiamo organizzato quella giornata in piscina, con i balli, i regali per placare le ultime. Però per divertirsi senza farla degenerare. Grazie. Grazie.